Grey's Anatomy 14, in prima tv assoluta su Fox Life arriva un gran colpo di scena per i fan di Grey's Anatomy. Mentre in tv va in onda la quattordicesima stagione della serie con Meredith Grey come protagonista, presto avrà inizio uno spin-off. Ebbene sì, lo spin-off è già realtà ed è l'attore Jason George, che in Grey's Anatomy interpreta Ben Warren, ad esserne il protagonista. È lui ad averne parlato per la prima volta ad Entertainment Weekly, svelando che il primo episodio sarà un crossover tra le due serie. Jason George, nel corso dell'intervista, assicura al pubblico che il nuovo show sarà una cosa davvero divertente vedere il personaggio che hanno guardato per anni calato in una nuova circostanza. E aggiunge, continueranno a vedere alcuni volti familiari, perché questa è l'ambulanza e i camion dei pompieri che più vicini al Grey's Loan. Anna Montesano, l'episodio Chi vive, chi muore, chi racconta la sua storia, settimo della quattordicesima stagione, corrisponde alla puntata numero 300 di Grey's Anatomy, la celebre serie ideata da Sean Larimesa. Come anticipato per molti dei dottori torneranno alcuni fantasmi del passato. Durante un'intervista con Tvline, la showrunner Krista Vernoff ha dichiarato di aver scritto l'episodio come una lettera d'amore per i fan che ci hanno seguiti per 14 anni. La Vernoff ha anticipato che la puntata ricorderà tutti i grandi protagonisti dello show che nel corso di queste 14 stagioni se ne sono andati, se c'è un sentimento preponderante questo è la nostalgia. E se c'è un tema portante in questo nostro episodio, sono i fantasmi del passato. Quindi ho trovato un modo per fare un piccolo tributo a tutti coloro che sono stati qua. L'attrice Sara Drev, che interpreta Aprili Kepner, aveva anticipato a Eve, Christina, George e Izzy e verranno ricordati molto in questo episodio perché le nostre tre quest star somigliano davvero a loro e riporteranno in mente al resto dei medici ricordi di quei personaggi. Questo porterà il gruppo originale a ricordare i loro amici e a voler combattere per salvare queste persone. Ag. Elisa Porcelluzzi, nella prima serata di oggi, lunedì 27 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio 501 Grey's Anatomy 14, in prima tv assoluta. Sarà il 7 grado, dal titolo Chi vive, Chi muore, Chi racconta la sua storia. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza, ritornati nel loro appartamento. Le cose fra Owen, Kevin Mkid, e Amelia, Caterina Scorsone, procedono con incertezza ed hanno ormai deciso di divorziare. Il neurochirurgo è convinto che l'affetto che prova per il marito sia reale e vuole che rimangano amici al di là di tutto. Più tardi, Meredith, Ellen Pompeo, mostra un forte imbarazzo perché la propria foto è finita sulla copertina del giornale ESA, mentre Tom, Greg German, decide di concludere la sua esperienza nell'ospedale ed affida di nuovo il testimone ad Amelia. Arizona, Jessica Capsav, invece rivela ad April, Sarah Drev, di aver lasciato Karina, Stefania Spampinato, per prepararsi al ritorno di Sofia. Su consiglio indiretto di Alex, Justin Chambers, Jackson, Jesse Williams, decide di sfruttare parte della propria eredità per trascorrere una giornata in barca con i soli uomini medici. Amelia invece ferma al voloton per curare una donna affetta da tumore al cervello. La situazione in ospedale precipita quando una giovane detenuta viene trasportata all'interno per dei forti dolori allo stomaco e solo dopo uno sparo si scopre che Daniele, Chelsea Alden, ha inserito l'arma nelle zone intime. Più tardi, Meredith si prepara per operare il giudice King, David Kisum, di tumore allo stomaco e si rifiuta di suggerirgli se accettare o meno l'intervento. Joe, Camilla Ludington, la precede pur sapendo di essere in errore, ma poi si stupisce nel vedere che Meredith non intende sgridarla. Mentre gli uomini in mare si lanciano in diverse sfide, Amelia richiede un incontro fra ex alcolisti con Richard perché teme di non poter fare il chirurgo ora che è guarita. Dopo un intervento di successo, Meredith rivela a Joe di aver evitato di mettere la sua foto nel rapporto medico su richiesta di Alex. La specializzanda tuttavia inizia a pensare che sia meglio richiedere il divorzio dall'ex marito e chiede un consiglio al giudice King. Nel frattempo, Ben, Jason George, rivela agli amici di essere stato preso nella scuola di formazione dei pompieri e di non aver ancora detto nulla alla moglie. I chirurghi rientrano di corsa in ospedale per assistere al discorso di Richard ai nuovi specializzanti. Durante il rinfresco, Oven conosce Carina, mentre Meredith scopre che il suo paziente ha appena avuto un collasso e non riesce a salvargli la vita. In quello stesso momento, la Bailey scopre che Meredith è in corsa per il premio Avery Harper. Più tardi, Tom e Amelia si ritrovano a letto insieme, mentre Jackson rivela alla Bailey di voler finanziare una ricerca medica in ospedale guidata da lei. De Luca, Giacomo Gianniotti e Arizona scoprono invece che Carina e Oven si stanno baciando in uno dei magazzini, mentre Joe riferisce ad Alex di voler chiedere il divorzio dall'ex marito. I piani di Meredith di partecipare alla cerimonia del premio Avery vengono annullati quando un vagone delle montagne russe viene deragliata. In ospedale arrivano tre pazienti che sembrano tre degli ex medici dell'ospedale che mancano da più tempo, Cristina, Izzy e Giorgio. Intanto, Amelia e Oven imparano a condividere la sala operatoria, dopo che la prima ordina per un paziente un esame che mostra un ematoma di grandi dimensioni. Arizona invece esegue un intervento sulla sosia di Izzy ed inizia a riflettere sul rapporto con Callie e Mark in attesa dell'arrivo della figlia. Joe cerca di capire se Alex ha di recente sentito Izzy per capire come possa stare, scoprendo che si è sposata ed ora ha tre figli. Maggie stringe un inaspettato legame con Zola mentre parlano di Derek e aspettano che Meredith parta per Boston. Bailey e Ben invece hanno una breve lite sul fatto che il secondo voglia unirsi ai vigili del fuoco. Dopo aver rinunciato a raggiungere Boston, Meredith viene premiata come vincitrice dell'ar per averi 2017.